Ecco come affrontare il nobile della nebbia, probabilmente uno dei boss più semplici presenti in Sekiro Semplicemente da quando entrate vi ritroverete in una posizione di vantaggio, potete subito togliere un pallino di vita immediatamente Dopodiché continuate a colpirlo, non ha una alta postura né un'alta vitalità, quindi riuscirete ad ucciderlo subito senza troppi problemi Forse uno dei pochi boss che riuscirete ad affrontare e sconfiggere al primo tentativo Vi ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo video, ciao!